Napoli è un posto un po' diverso da tutti gli altri, è in possesso di un'identità composita fatta da pezzi di altre culture. Napoli è miticcia, Napoli è bastarda e quindi la sua identità è assolutamente non replicabile. Questa identità costituisce una merce che si può e si deve moltiplicare e produrre e deve diventare una merce da vendere costantemente sul mercato globale che la richiede. Quindi la tradizione culturale di Napoli diventa un fattore, un fattore di crescita importante perché è un giacimento, è un giacimento di una merce rara, molto richiesta, che noi dobbiamo imparare a considerare spendibile dovunque e non da ignorare, non da perdere, e non da lasciare in soffitta.